Certo ci sentiamo ingiustamente trattati, non vogliamo essere dimenticati da questo governo, noi chiediamo a questo governo di avere una maggiore logica, soprattutto verso chi è in questo percorso lavorativo da tanti anni. C'è stato promesso un posto di lavoro, poi ci hanno detto che questo posto di lavoro forse ci sarebbe stato dato nel 2026, non ci sembra molto onesto. L'Europa ha dato dei soldi perché alcune persone vengano assunte, ma non hanno detto assumi questo, assumi quello. I piani del PNRR, come diceva poco prima una collega sindacalista, possono anche essere rimodulati. Noi ci sentiamo veramente presi in giro, stiamo parlando di un concorso che è stato bandito nel 2020. Nel nostro caso in particolare noi abbiamo fatto due concorsi su due diverse classi di concorso che in più sono state accorpate, quindi noi siamo vincitrici di due concorsi ma in realtà di uno. Penso che possa bastare. Ovviamente lo trovo un grave sopruso, soprattutto perché il concorso fatto nel 2020 è stato un concorso altamente selettivo, lo dicono i numeri, siamo passati allo scritto il 13% delle persone che hanno effettivamente svolto la prova e mentre per il concorso PNRR allo scritto sono passati l'89% i numeri del Ministero. Quindi il concorso 2020 era effettivamente molto selettivo, è stata una prova comunque difficile per cui ci siamo preparati tanto e non che uno poi non abbia studiato anche per il concorso successivo, però diciamo che effettivamente il livello delle prove era diverso, quindi sia per una questione di tempistica sia per una questione proprio di struttura della prova, il concorso 2020 doveva assolutamente avere la priorità. Il governo deve tenere in considerazione il fatto che la nostra scuola ha delle graduatorie permanenti da tanti anni e che devono evadere prima tutti i nostri doni, prima tutti i nostri vincitori e a seguire e indire concorsi PNRR. Se lo indicano prima perché i tempi sono dettati all'Europa va benissimo, però a noi ci devono tenere comunque in considerazione. Non mettere lì un cantuccio oppure dimenticarci, però è peggio ancora di necessità. Perché questo stanno facendo, facendo finta che non esistiamo. Parlo per esempio del concorso straordinario 510-2020, che è stato letteralmente accantonato per mancanza di posti. Un concorso che fino all'anno scorso, nella mia classe di concorso, faccio l'esempio concreto perché è quella che mi riguarda. AA25 ha preso i doni fino all'anno scorso, anche se il vincolo triennale finiva nell'anno scolastico 2022-2023 e invece quest'anno non l'ha fatto. Non l'ha fatto perché i posti sono pochi e quindi li tengono solamente per i vincitori. Tutto ciò malgrado l'allegato A. L'allegato A è quello che dice che questi vincitori dei concorsi del 2020 vanno assunti, vanno assunti secondo una loro graduatoria. Poi questo governo ha deciso di inserire altri vincitori, sarà anche giusto, però è una novità dell'ultima ora, non si può tornare indietro su altre decisioni. Cerco di parlare a nome di tutti, non solo per la mia classe di concorso, ma per tutti gli doni del 2020. È stato un concorso che è stato un bandito nel 2020 ma ha fatto poi nel 2022 con uno scritto molto difficile, infatti tante persone non sono passate e anche un orale abbastanza tosto e ci ritroviamo ad essere in tutta Italia migliaia e migliaia di doni in graduatoria di merito 2022 che stiamo aspettando lo scorrimento delle graduatorie. Quindi l'appello che vorrei fare per tutti noi docenti abilitati tramite concorso 2020 è di far scorrere le graduatorie che ci sono piuttosto che bandire concorsi su concorsi, perché così la situazione non si risolve. Rimangono migliaia di posti che vanno in supplenza e i precari non vengono mai stabilizzati. Quindi veramente l'appello è facciamo scorrere le graduatorie di merito che già ci sono con migliaia di persone e poi gli altri concorsi si fanno in seguito quando effettivamente ci sono i posti, perché tanti posti che vengono banditi anche con i nuovi concorsi PNRR, i posti nemmeno ci sono. Quindi è un appello che io veramente vorrei fare a nome di tutti, fate scorrere le graduatorie perché il concorso di due anni fa è stato ultra difficile, tutti noi ci siamo meritati il posto, il posto poi ce lo meritiamo tutti, chiunque supera il concorso, quindi fate scorrere le graduatorie e facciamo le cose con criterio. Allora ecco, io voglio far presente soltanto la mia situazione che è una tra le tante, non sono neanche quella che è messo peggio. Io sono sette anni che insegno a scuola, spagnolo, sia la scuola media che la scuola superiore e ho passato le prove con punteggi non inferiori al 90, non per vantarmi ma perché comunque ce l'ho messa tutta e starei adesso per fare di nuovo il spagnolo alle superiori, sono al mio sesto concorso, quindi diciamo non sono una novellina e direi che il merito, questa parola merito di cui tanto ci riempiamo la bocca l'abbiamo ampiamente dimostrato, quindi ecco non ho altro che il mio esempio che è l'esempio di una persona qualsiasi perché siamo tutti così, il merito ce l'abbiamo, adesso ci tocca l'assunzione.